Al Domenici di Montecchio, per la quarta giornata al girone D di seconda categoria Umbra, sotto la direzione del signor Temperoni di Terni, scendono in campo Montecchio e Fabbro. Il Montecchio si porta subito in attacco con Carletti che prova a metterla in mezzo, ma sulla traiettoria trova Giustiani che devia la palla che finisce direttamente a Mollichella. Carletti al settimo la mette per Dami che in velocità brucia Leonardo e Rosi, involandosi in aria per infilarla in rete per il vantaggio del Montecchio. La risposta del Fabbro non si fa attendere, prima con Meloni all'undicesimo che non ci arriva, poi con Rapicetti che senza rendersi conto di essere in posizione di fuorigioco la manda sul fondo. Il Fabbro al quattordicesimo è ancora pericoloso, con Sciacca Luca bravo a respingere la palla prima sul tocco di Meloni e a seguire sulla ribattura di Giustiani. Il Montecchio va ancora vicino al gol al giusto settesimo, quando la palla rimbalza davanti a Mollichella tornando indietro. Al ventiquattresimo Blanchi colpisce male la palla con Mollichella che la recupera facendo la sua. Mentre al ventisettesimo è squarcia a corpirla male, con la palla che finisce a Ranieri che la allontana dall'area. Rapicetti al trentatreesimo da angolo la mette in mezzo, ma Vergari non trova la deviazione vincente in rete. Dami al quarantatreesimo ci prova da calcio piazzato, ma la palla finisce direttamente tra le mani di Mollichella. La ripresa si apre con il Fabbro che si porta subito un attacco. Ricci al quarto si invuola in aria, la mette in mezzo, ma Mollichella anticipa tutti allontanando di pugno. Squarcia al giustettesimo ci prova dalla lunga distanza, ma la palla finisce sul fondo alla sinistra di Sciacca Luca. Conti prova a metterla in mezzo, ma colpisce male la palla che finisce direttamente a Mollichella. Rossini al ventesimo la mette in mezzo, dove trova Dami l'è stata infilata in rete per il 2-0. Il Fabbro non ci sta, portandosi di nuovo in attacco, reclamando prima al ventunesimo per un attocco di mano in aria di Basili e a seguire per un fallo in aria sul Rapicetti. Rossini al ventiquattresimo ci prova da fuori aria, con la palla che finisce sul fondo passando di poco sopra la traversa, mentre sul ribaltamento di campo è Rapicetti a mandarla sul fondo passando di poco sopra la traversa. Il Montecchio continua ad attaccare, sfiorando il gol al ventinovesimo con un tiro dalla lunga distanza. Il Fabbro ci prova in tutti i modi, ma la palla non ne vuole sapere di entrare in rete. Muccifori al quarantunesimo la mette in aria, ma squarcia, la colpisce male con la palla che invece di finire in rete ritorna indietro. Oggi la squadra ha dato una reazione importante, anche se avevamo vinto un Coppa mercoledì e tutti hanno dato una mano perché non era facile, una squadra quadrata come il Fabbro e secondo me anche chi è entrato dalla panchina ha dato ottima sostanza al risultato. Siamo stati compatti, c'è stato un momento che abbiamo sofferto perché comunque sia, come ripeto, la squadra del Fabbro è molto organizzata. Abbiamo trovato golle quasi subito in verticalizzazione e per il resto sono contento, comunque sia, ripeto, che la squadra abbia raggiunto e abbia preso i tre punti. Bisogna ora continuare così, dare continuità ai risultati, soprattutto. La partita sta piena e ricca di episodi che l'arbitro magari non ha fischiato a favore nostro, poi abbiamo spiegato tante occasioni, loro in ripartenza hanno fatto male. Hanno fatto bene, pardon, e alla fine è andata così, però cerchiamo di ripartire la prossima partita e speriamo di ribaltare il risultato che è stato negativo quest'oggi.